Shemma Israel Adonai Eloenu Adonai Ead Shemma Israel Adonai Eloenu Adonai Ead Vi voglio presentare il professor Undo Lein dell'Università Politecnica di Helsinki. Prima di diventare un professore e poi vi dico il quale cattedra, Undo è stato un bambino. E' stato un bambino che come tutti i bambini della sua regione, siamo in Finlandia, ha vissuto moltissime notti, negli inverni lunghissimi di quelle regioni, contemplando le stelle e il cielo la notte. E in questa esperienza che a noi farà brividire, perché quelle regioni sono freddissime, già solo il tiepido dell'estate e poi il gelo artico ci tengono lontani, il fascino che esercitano su di noi appunto pertiene a alcune poche cose, tra le quali quelle che hanno fatto grande la vita di Undo. Ma prima di arrivare a questo, immaginiamoci un bambino 3enne che gira e scorrazza nel giardino di casa, ghiacciato, guardando il cielo. E nel cielo, appunto, lo spettacolo più bello, lo spettacolo più grande e strano che si possa immaginare. A tre anni, Undo era innamorato. Suo fratello dirà più tardi che da lì è nata la sua passione, che lo ha portato a diventare professione in tutta la vita. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'Aurora Boreale, ovviamente. Uno degli spettacoli della natura che affascinano di più, specialmente noi che conosciamo il sole, il mare e la luce, ma non questa particolare esperienza, questo particolare fenomeno che avviene appunto nei cieli più bui del nord, intorno ai poli. L'Aurora Boreale, l'Aurora, è una parola che viene dal sabino Ausel, forse, che sarebbe il dio del sole, oppure da una forma arcaica della parola Aurum, cioè oro, secondo i latini, non si sa, le enciclopedie sono un po' confuse. Sicuramente Aurora è quello splendore e fantastico che avviene prima della nascita del giorno, ma anche l'aura che brilla sul volto delle persone belle che conosciamo, delle persone positive che emanano un'aura di bene. Aurum, appunto l'oro, da sempre per l'uomo è qualcosa di prezioso, qualcosa di valore, qualcosa di scintillante, con cui possiamo riconoscere immediatamente il valore. Dicevo, Unto aveva tre anni quando si è innamorato dell'Aurora Boreale, ma soprattutto, come dirà suo fratello, più in là nella sua vita, voltandosi verso di lui, verso il fratello, dirà, ma canta. E infatti Unto è diventato professore di acustica, non di ottica, ci saremmo aspettati questo, invece diventa professore di acustica perché il fascino di quell'immagine era unito a un suono. Questo suono è una specie di tuono sordo che avviene molto basso, con delle frequenze molto basse, che avviene perché quando il Sole emette degli ioni in modo molto forte, quando le condizioni atmosferiche della nostra atmosfera terrestre sono molto particolari, appunto avviene qualcosa di simile a una specie di fulmine, a un grande tuono, appunto. E quindi somiglia a una grossa nota profonda che viene, come un boato, avvolge il cielo. Ecco, ma al di là di quello che è realmente accaduto, Unto è diventato, ancora oggi fa così, adesso è una vendita veneranda, prende i suoi strumenti e va a caccia di aurore boreali per registrarne il suono. La sua passione da bambino è diventata una professione, la sua professione è diventato amore. E Auris, l'aurora, l'oro, lo splendore, il bagliore, è diventato musica. E allora dobbiamo provare, e vogliamo provare in questa nostra chiacchierata, a parlare appunto dell'ascolto. Nella Bibbia italiana del 2008, cioè la traduzione dei Vescovi, l'ultima traduzione dei Vescovi, che è quella che si proclama durante la messa domenica e tutti i giorni, la parola ascolta viene citata 187 volte. Se ci mettiamo tutte le versioni del verbo ascoltare, arriviamo a quasi 800. Se guardiamo invece la frequenza della parola o del parole, cioè dei termini singolare e plurale parola, arriviamo a 1440 frequenze, mentre il verbo parlare le supera di poco. In ebraico tutto quello che ha a che fare con il parlare si dice amar, o varianti di questa radice. Parlare, pronunciare, dire, proferire, domandare. E tutte queste parole si presentano più di 5000 volte. e sono quasi sempre al centro dell'azione. Da queste indicazioni ci rendiamo conto che la Bibbia è per sua struttura un libro fatto per innescare l'ascolto. Un po' è l'acqua calda, amici. La parola non può risuonare se non ottiene qualcosa che la recepisce, qualcuno che la recepisce. E nel caso della Bibbia questo qualcuno è l'uomo, ma soprattutto l'uomo disposto ad avere un cuore che ascolta, avere la disposizione del cuore in attesa di ricevere questa parola. Israele è convocato dalla parola di Dio e anche la Chiesa è convocata dalla parola di Dio. La parola stessa, Ecclesia, indica appunto l'assemblea radunata nell'ascolto della parola. E' proprio l'immagine plastica del termine Ecclesia, è proprio quella di una riunione di persone che stanno tutte orientate verso qualcuno che parla. E questo qualcuno, alla cu maiuscola, è il Signore, evidentemente. Quando Mosè scende dal Sinai per presentare le dieci parole, cioè la Costituzione che sta alla base del Vangelo, scusate, della Bibbia, della Torah, queste sono le parole che vengono usate, che Gesù, scusate ancora, che Dio mette in bocca a Mosè da annunciare al suo popolo. Dice, voi stessi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani e come vi ho portati su Ali d'Aquila, conducendovi fino a me. Ora, se voi ascolterete la mia voce e custodirete la mia alleanza, sarete per me un possesso particolare fra tutti i popoli. Certo, mia è tutta la terra, ma voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. La liberazione dell'Egitto, l'elezione del popolo, ha innescato una comunione con Dio, cementata da questo ascolto, da questa parola. L'ascolto della Torah donata dal Sinai diventa il trattato dell'alleanza tra l'uomo e Dio, tra Israele e suo Signore. Ascoltate la mia voce, seguite tutto ciò che vi ho comandato, allora voi sarete mio popolo, io sarò il vostro Dio, si trova scritto nel libro del profeta Geremia. E tutto questo transita nel Nuovo Testamento perché noi stiamo pensando e se ci pensiamo alle volte, le varie volte, nelle quali Gesù usa espressioni analoghe. Dice, Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, Beati i vostri orecchi, perché ascoltano ciò che molti profeti e giusti desideravano ascoltare. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. E l'autore dell'Apocalisse all'inizio del suo libro scrive Beato colui che legge e quelli che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Vedete come dall'inizio della storia di Israele ascoltare la mia voce, custodire la mia alleanza fino alla fine della storia della cristianità, cioè l'Apocalisse, questa visione degli ultimi tempi, Beati coloro che ascoltano e custodiscono le cose che vi sono scritte, cioè custodiscono l'alleanza. E' una parabola, è un arco narrativo che è racchiuso dentro questa esigenza, questo invito, questo compito dell'ascoltare. La struttura dialogante della parola tra l'uomo e Dio e tra Dio e l'uomo si evidenzia anche dal fatto che, e pensateci un momento, per noi è ovvio leggere personalmente la Bibbia, cioè prendere un foglio in mano e riconoscere le lettere che siano scritte sopra, ma per la grande parte dell'umanità e nella storia dell'umanità questo esercizio è stato fatto soltanto in tempi molto recenti, che so io, nel nostro mondo sono cento anni che sappiamo leggere, tutti, ma per la grande parte della storia dell'umanità la parola di Dio veniva proclamata, veniva annunciata, per cui questa parola veniva custodita da qualcuno che ne sapeva leggere appunto e pronunciare le parole, ma veniva spezzata nelle assemblee, nelle occasioni, come una notizia, una buona notizia annunciata con la voce. Leggere dunque significa udire, prima di tutto e soprattutto l'esercizio del leggere la Bibbia e l'esercizio di ascoltare la Bibbia. In questo senso è molto interessante e curioso sapere come chiamiamo la Bibbia, noi per esempio diciamo la Bibbia, i libri, d'accordo in greco, la parola di Dio, che è quel che è, benissimo, è una professione di fede, ma poi usiamo come sinonimo la scrittura, riferendoci proprio al fatto che la scrittura di tutte le altre scritture è più importante di tutti gli altri libri e sia appunto quel tomo. Per l'ebreo la parola che fa da sinonimo alla parola di Dio, alla Bibbia, è mikra, e mikra ha dentro il suo interno la radice kara, che indica non tanto l'esercizio di leggere o di scrivere, cioè l'esercizio pratico di prendere la mano con la penna, ma alla radice di kara significa chiamare, urlare, parlare a voce alta, no? kara, poi viene aggiunto il prefisso ma, ma kara, mikra, sono leggi dell'ebraico che francamente ricordo molto poco e che rimando a un'altra occasione, che però indica la direzione, è una parola, è una voce, espressa a voce alta, che raggiunge, che va da qualche parte. potremmo dire che se noi usiamo la parola scrittura, la Bibbia potrebbe essere chiamata anche la parlante, o ancora di più la chiamante, colei che chiama, la parola che viene pronunciata e che raggiunge qualcuno, qualcuno che la sta ascoltando, potremmo dire che è un sinonimo della vocazione. La Bibbia è una chiamata, una chiamata, un appello a chi la ascolta, è un compito affidato a chi la ascolta. Se dicevamo dunque che nella Bibbia, nella scrittura, nel corpus letterario del biblico, la parola ascolto è un aspetto ed è una questione importante e centrale, tanto che questo comando che stiamo imparando a cantare, Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Head, è ripetuto dal Pio ebreo cinque volte al giorno, ascolta Israele, per cinque volte viene ricordato all'uomo e la regola di San Benedetto, per esempio, comincia anche con le parole ascolta figlio. Tutto questo ha a che fare con un atto costitutivo, l'ascolto è parte di quello che è il nostro essere umani, l'ascolto è il parlare, cioè questa dinamica tra dire parole e ricevere parole fanno sì che siamo umani, che siamo esseri umani, diversi dagli altri esseri viventi. noi siamo bombardati da immagini, il nostro tempo, oltre alle immagini del nostro panorama, di quello che vediamo tutti i giorni, abbiamo costantemente gli occhi su qualche schermo, costantemente gli occhi bombardati da immagini e queste immagini sono accompagnate dalla musica e se noi dovessimo perdere l'immagine, mantenere l'audio, mantenere la musica, allora noi avremmo comunque un atto di comunicazione. Pensate in questo momento, se noi si spegnesse quello che stiamo vedendo, voi vedeste soltanto buio, ma ascoltaste la mia voce, quello che sto dicendo vi raggiungerebbe, invece se andasse via il suono, se non ci fosse più la mia voce, vedreste questo faccia rubiconda con le mani che gesticolano di un pazzo che non sai cosa sta dicendo e dunque niente di quello che dice sarebbe efficace, se lo è in qualche modo. Dunque dobbiamo renderci conto che questo è appunto la grandezza, la bellezza dell'essere umano. Quando si dice che un animale che ci fa compagnia, il nostro cane domestico è così bello, così carino, così affettuoso, così fedele, ma gli manca solo la parola, appunto, gli manca solo la parola per essere il nostro pari, per essere al nostro livello. La parola poi in realtà rivela anche chi sei, la parola è lo strumento principale con cui noi entriamo in interazione con l'altro, più che non l'immagine. Possiamo essere imbacucrati, possiamo essere al telefono e non vederci, ma la parola ci raggiunge. E con il timbro della parola, con un po' di finezza, noi riusciamo a riconoscere l'altro dalla sua parola, non soltanto perché ricordiamo il timbro della sua voce che è unico, ma anche perché riconosciamo le flessioni del suo timbro nel caso in cui dicesse una bugia, nel caso in cui dicesse qualcosa che non va bene, che ci disturba, qualcosa che vuole essere una ferita. pensate a quante volte, non so, sotto i porti ci salutiamo, ciao, come va? Bene, ciao. E quel microscopico dialogo rivela immediatamente la verità di quel rapporto, se siamo davvero in intimità, se va tutto bene e si innumono in verità o se sta dicendo non va bene per niente ma te lo dirò un'altra volta perché adesso non ti interessa oppure non voglio dirlo a te. perché è evidente da come parliamo, da come ci esprimiamo. Pensate agli adolescenti che meraviglia quando si alzano nell'assemblea per dire qualcosa e gli trema la voce perché stanno dicendo qualcosa che ritengono importante ma hanno una paura folle di essere giudicati per quello che dicono perché appunto stanno cercando ancora la loro forza, la loro presenza in mezzo a quell'assemblea. Pensate nelle nostre riunioni quei giovani che si alzano e dicono vorrei fare questo, sarebbe bello e gli trema la voce che meravigliano. Pensate al sussurrare della mamma che coccola un bimbo che ha avuto un incubo. Se gridasse sono tutte sciocchezze o se gridasse anche le medesime cose. Stai tranquillo ma tutto bene? Questo sarebbe altamente destabilizzante perché la parola ha una potenza ineguagliabile quella di andare da dentro di te a dentro l'altro. Nessun mezzo di comunicazione può prescindere e può fare questo viaggio, non può partire da dentro e andare dentro. Per fare una pubblicità ci vogliono una squadra di persone riunite intorno al tavolo per lunghi mesi per decidere una strategia di imbroglio di chi l'ascolterà. Quando io invece dico a te ti amo, quando io dico a te ti odio, io sto prendendo da dentro il mio sacco una parola e la sto portando verso di te e tu la fai entrare a seconda di quanto ciascuno vuole andare a pescare in profondità e ciascuno vuole andare a custodire in profondità la parola arriva, la parola rivela chi sei, la parola svela anche appunto le maschere, pensate che nell'Apocalisse c'è il mentitore che si traveste da agnello e in tutto per tutto è l'immagine dell'agnello ma ha la voce del drago e quindi si riconosce che le sue sono menzogne che le sue sono bugie Santa Teresa d'Avila la grande mistica carmelitana nel suo castello interiore pieno di stanze dove stanno le nostre cose le nostre passioni le nostre scelte individua nel cuore del castello un luogo una stanza interiore dove arde il fuoco della parola che è la nostra verità e quella parola indica chi siamo quella parola è la parola che ci dà l'identità che dice chi sei ogni atto che viene fuori ogni atto ogni intenzione sarà conseguenza di quella parola da tutte le stanze del castello emergono decisioni scelte che sono collegate a quella parola fondamentale che arde nel cuore del castello per cui dalle scelte di un uomo dalle scelte di una donna in qualche modo puoi risalire a quello che sta davvero a cuore a quell'uomo sia per contrasto che per affinità nel senso che a volte facciamo delle cose che sono delle bugie capisci la bugia e arrivi risalendo la corrente fino a quello che è la verità o viceversa sono gesti autentici sono gesti veritieri allora hai in qualche modo la trasparenza di quella stanza interiore una finestra aperta in quella stanza interiore e quel dialogo mai finito in quella stanza avvengono i dialoghi mai finiti della nostra quotidianità nessuno di noi può mettere a tacere la sua voce il suo dialogo interiore lo faccio non lo faccio vado non vado cosa gli rispondo devo rispondere sì o no ogni uomo ogni donna ha questa parola dentro questa stanzetta dove sta la parola più importante di tutte le altre parole che educa e forma le parole che ne sono conseguenza per cui il sì il no dipendono dalla scelta fondamentale profonda che c'è in quel caminetto acceso in quella lampada accesa che c'è al cuore del castello interiore Maria per esempio in questo senso è campionessa ed è riportata nel Vangelo in modo molto fine molto sobrio e in questo fa da maestra a tutti gli altri santi e a noi che la amiamo Maria quando risponde all'angelo dice venga di me secondo la tua parola e più avanti quando presenterà Gesù al tempio e vedrà i vegliardi che benedicono il cielo per aver incontrato Gesù bambino dirà Maria custodiva tutte queste parole meditandole nel suo cuore e quando Gesù si perde quando Gesù diventa grande sempre Maria è presentata come con lei in silenzio che macina la parola dentro in ebraico la parola dabar che indica parola è anche la stessa parola che indica i fatti gli avvenimenti gli accadimenti dabar sono le cose che accadono e che come parole ci raggiungono come notizie ci raggiungono e dunque fermentano dentro vengono custodite si aggiungono a quel puzzle che piano piano è la nostra percezione del mondo la nostra idea del mondo e Maria sceglie sempre quella parola per ascoltare bene acqua calda bisogna fare silenzio ma per fare silenzio non si può fare silenzio stando zitti soprattutto perché puoi metterti le cuffie come ho io in questo momento ma non puoi metterti non puoi mettere a tacere il dialogo interiore ma puoi sintonizzare il dialogo interiore sulla parola che fa da sorgente a tutte le altre parole tu puoi sintonizzare il tuo parlare interno il tuo dentro il tuo interno la tua stanzetta interiore lo puoi sintonizzare con quella parola che è capace di scaldare tutto il castello qual è questa parola? nella nostra ricerca in questo momento proviamo a trovarla dicevo per fare silenzio bisogna perdere fare spazio sintonizzare le parole sulla parola e c'è un brano per andare al nocciolo della nostra questione un brano che fa da fondamento a questa ricerca che anzi è il tesoro da trovare e quando devi sintonizzare le tue parole sintonizzale su questa parola siamo nel capitolo nel Vangelo di Marco all'inizio quando Gesù viene battezzato da Giovanni dice in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo spirito discendere su di lui come una colomba e si sentì una voce dal cielo tu sei mio figlio l'amato in te mi sono compiaciuto ora questa parola è la parola di Dio Dio squarcia il cielo si sente parlare e poi tacerà per sempre e siamo all'inizio del Vangelo di Marco appunto perché questa parola è la parola generante le altre parole nel castello interiore di Gesù da questa parola dipendono le scelte gli atti di Gesù dicevamo parola e atto sono la stessa parola per l'ebreo dunque sia quello che Gesù dice sia quello che Gesù fa è sintonizzato sulla parola che ha ascoltato dal Padre una rivelazione che non ci diamo da soli una parola che viene dall'alto ma che ci dà l'identità ci dice chi siamo faccio ancora una precisazione su questo noi passiamo la grande parte della nostra vita specialmente nei primi anni a imparare le parole degli altri e a immaginare come le parole degli altri possano formare chi siamo noi immaginiamo la nostra vita come una grande biblioteca dove continuiamo ad accumulare i libri delle parole degli altri pensando che più ne abbiamo più abbiamo una forma seria adeguata pronta in questo mondo che è una giungla invece la verità è che noi possiamo e dobbiamo entrare in questa biblioteca entrare nel dialogo tra le persone le culture le idee con una forma e questa forma ci è consegnata da questa scintilla che sola può accendere il fuoco nell'interno della stanza interiore del castello e questa parola non è una parola normativa fai questo fai quello ma è una parola formativa tu sei mio figlio tu sei mia figlia l'amato l'amata in te ho posto il mio compiacimento tu mi piaci io sono affezionato a te questo è il cuore il cuore della parola che fa da innesco a tutte le altre parole o se sapessimo sincronizzare le nostre voci se noi sapessimo sincronizzare la melodia della nostra vita su questa nota tenuta fissa come un bordone nell'orchestra nell'armonia della vita il bordone è quella nota fondamentale che regge l'armonia in certe formazioni musicali in certe esperienze musicali ebbene noi avessimo la capacità di lasciarci formare da quella parola che sola va ascoltata la parola d'amore di Dio per ciascuno di noi tu sei figlio mio l'amato ecco allora ancora la professione di fede del pio ebreo dal salmo 2 annuncerò il decreto del signore egli mi ha detto tu sei mio figlio io oggi ti ho generato tu puoi essere un folle egoista come Elia un presuntuoso pazzo scatenato che crede di avere capito Dio ma se non ascolti se non dai precedenza a quella parola che sola può darti identità tu ti perderai dietro il delirio del fuoco che divora la sapienza degli altri del mondo tu non comprenderai nulla di quello che gli altri dicono di qual è la loro ricerca rifiutando ogni parola e ogni proposta nel delirio delle tue parole sconnesse dalla parola di Dio tu non ti accorgerai che lei era lì parola che stava sottofondo di ogni altro discorso prima e durante e dopo ogni altro suono più sottile del vento più trasparente dell'aria più piccola d'un sussurro ascolta Israele Dio è il tuo Dio Dio è uno questa cosa devi sentire questa cosa è udibile questa sola cosa gridano le pietre cantano le stelle l'aurora boreale non fa altro che dirti tu sei mio figlio io e te tu e me Dio ti ripete io ti amo ti ho amato e ti amerò sempre ascolta figlia guarda porgi l'orecchio dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre al re piacerà la tua bellezza egli è il tuo signore prostrati a lui perciò chiunque ascolta queste mie parole le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta la legge della libertà e le resta fedele non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica questi troverà la sua felicità nel praticarla quello che era da principio quello che noi abbiamo udito quello che abbiamo veduto con i nostri occhi quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani toccarono del verbo della vita quello che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi ecco sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò da lui ce n'ero da lui ed egli con me grazie